ciao ragazzi eccomi di nuovo qui in questo video volevo mostrarvi una simpatica idea regalo per san valentino quindi sarà un video breve solo per mostrarvi questa questo oggettino davvero carino che mi è stato inviato da francesca lei ha un sito che si chiama francesca country painting puntocom poi lascio il link sotto e la potete trovare anche su etsy etsy il nome è francesca franci e allora vi parlo di questo qui che praticamente cos'è alla nanzitutto ve lo mostro sono due orsetti cioè l'orsetto femminuccia questo qui l'orsetto maschetto che da un bacino alla femminuccia poi sono tutti questi policini evocato a forma di cuore tutti entrambi i lati poi sopra è fatto così ai bordini tutti i rossi e qui è fatto in due colori rosso nero rosso no rosso marrone scuro stesso colore degli orsetti guardate quanto sono belli come sono fatti bene praticamente questo cos'è francesca l'ha chiamato un porta tutto praticamente che può contenere cellulare chiavi può essere uno svuota tasche può contenere le lettere quindi un porta lettere praticamente potete mettersi tutto quello che volete è completamente ideato e creato da lei partendo praticamente dalla scelta del materiale che è stato che è stato scelto per questo progetto il compensato dal disegno ai colori che è stato appunto colori agrilici e ha pitturato tutto a mano quindi gli orsetti coricini ha fatto tutto lei tutto fatto a mano la grea per passione e il suo più grande hobby questo e sul suo sito potete trovare tantissimi altri progetti volevo dirvi una cosa originale perché praticamente per chi è interessato sul suo sito oltre a trovare il prodotto finito c'è le immagini del progetto finito e le istruzioni per poterlo dipingere da soli quindi acquistando questo partner praticamente penso di aver capito in questo modo comunque potete contattare lei e ve lo spiegherà un po meglio lei vi manderà il il progetto finito quindi la base il compensato fatto in questo modo con qui tagliato con i cuori fatto così e basta senza essere dipinto e niente del progetto base poi dopo su questo questo partner ci saranno le indicazioni su come potete dipingere in questo modo quindi su come fare gli orsetti come fare i cuoricini come fare una parte sopra pitturarlo insomma lei spiega come farlo quindi così in questo modo potrete piano piano imparare da sole quindi una cosa originale molto carina in modo che anche gli altri possano imparare a realizzare quello che che noi siamo capaci a fare aiutando insomma gli altri e niente praticamente potete contattarla per richiedere la realizzazione di altri progetti lei ve le realizzerà in tempi brevi e con prezzi prezzi molto molto convenienti vi ridico appunto il sito che si chiama francesca countrypainting.com e il suo sito esi vi lascio tutti i link sotto nell'info box io penso che questa possa essere un'idea carina per san valentino per regalare al proprio al proprio ragazzo la propria ragazza proprio compagno per la propria casa e poi una cosina fatta a mano potete anche realizzarla da sola come gli ho detto comprando il pattern è ancora più carina ringrazio francesca e vi mostro il suo bigliettino da visita eccolo qui questo qua il suo bigliettino da visita oggettistica e legno e lata di vinta a mano corsi per gruppi o per singoli e partner con tanti c'è anche il numero di cellulare però non ve lo lascio c'è l'email ferisworld.com il sito che già vi ho detto e il sito esi a in più potete trovarla anche su facebook a francescasferisworld vi lascio tutto nell'info box vi saluto e vi lascio con questo bellissimo porta tutto un bacio